Il giovane è stato soccorso Il giovane è stato portato in ospedale presso il policlinico Casilino. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi ma i ritentativi di soccorso sono stati resi vani e all'evento è stato dichiarato morto. Colpo al narcotraffico in zona di Rieti. Da questa mattina in corso un blitz per smantellare la rete del narcotraffico del valore di mezzo milione di euro che si è radicata in vari comuni della provincia a Riatina e in particolar modo a Poggio Moiano e per mezzo della quale varie sostanze stupefacenti tra cui cocaina, hashish e marijuana provenienti da Roma venivano rivendute al dettaglio nel territorio. Dalle prime ore dell'alba è in corso appunto questa operazione dei carabinieri del comando provinciale di Rieti per l'esecuzione di 13 misure cautelari personali emesse nei confronti di altrettanti indagati dal GIP del Tribunale di Rieti e su richiesta della locale procura per il reato appunto di detenzione di sostanze stupefacenti a fini dello spaccio. L'operazione vede impiegati oltre 80 carabinieri nelle province di Rieti, Roma e Torino supportati dall'avvenivolo delle carabinieri elicotteri di Rieti e da unità cinofili del nucleo di Roma e sono in corso anche varie perquisizioni. Frosinone è la provincia più sicura del Lazio, lo dice il Sole 24 Ore attraverso la sua graduatoria che viene stirata dal Ministero dell'Interno che le riporta e Frosinone è al 96esimo posto in Italia per numero di denunce. Con oltre 11.000 denunce totali e 2.443 ogni 100.000 abitanti, Frosinone si piazza quindi al 96esimo posto tra le province italiane nella speciale classifica sull'indice di criminalità. Una graduatoria che come ogni anno viene stirata se dal Sole 24 Ore che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell'anno precedente, quindi in questo caso nel 2022, in rapporto alla popolazione residente. La Cioceria mantiene lo stesso posto dell'anno scorso con un leggero aumento delle denunce totali. Passiamo allo sport, stasera torna in campo la Pallanuoto con la Serie 1 maschile la terza giornata nel turno infrasettimanale. Scenderanno in vasca sia la Roma-Visnova in casa di Camogli per una sfida salvezza, entrambe le squadre sono ancora a 0 punti, che l'Astra Roma che giocherà in casa di Posillipo. Quest'ultima formazione romana appunto a 3 punti, la Visnova ancora a 0. Turno infrasettimanale anche per la 2 di basket, stasera in campo latina Luiz Roma e Riedi, i Pontini ricevono in casa Cantù e cercano la prima vittoria stagionale. Da lui si giocherà a Cremona che nell'ultimo turno ha battuto proprio Latina, mentre Riedi giocherà sulle parche di Treviglio. Riedi e Roma sono prima a punteggio pieno insieme a Trapani. Con queste notizie chiudiamo il telegiornale di Canale 81 Lazio, vi ringraziamo per averci seguito e vediamo appuntamente ai prossimi notiziari. Grazie. 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 Grazie.